Ciao ragazzi, volevo farvi una domanda, ma voi sapete quanti modi esistono per accompagnare una canzone? Prendiamo tre accordi, Sol, Re, Mi minore e poi di nuovo Re. Ascoltate bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Erano sempre gli stessi tre accordi. Se ne volete parlare e approfondire, ci vediamo sabato alle due e mezza su Italia 1. Non scherzo, sul gruppo Facebook, per la diretta. Siateci. Ciao.